Marta Collot, Laura Bergamini, Stefano Luglie e Domenico Battaglia. Sono questi i nomi degli outsider, vale a dire dei quattro candidati non legati ai principali partiti che difficilmente si giocheranno la corsa vera e propria presidente della regione, ma che punteranno a uno o più posti in consiglio e che non alleandosi con alcuna coalizione dovranno superare la soglia di sbarramento del 3%. La più giovane candidata alla presidenta della regione Emilia Romagna è Marta Collot, di potere al Bopolo, 26 anni, nata in provincia di Treviso, da sette anni vive da precaria a Bologna e si fa carico delle battaglie dei lavoratori sfruttati. Sempre nell'area della sinistra si colloca Laura Bergamini del Partito Comunista, 59 anni educatrice di asilo nido a Parma. Al centro del suo programma il lavoro, la gestione pubblica dei diritti sociali e la salvaguardia dell'ambiente. Con l'altra Emilia Romagna c'è Stefano Luglie, 45 anni, di finale Emilia attualmente segretario regionale di rifondazione comunista. Nella sua lista confluiscono diverse realtà civiche assieme ad esponenti del PC e del Partito del Sud. Chiude l'elenco Domenico Battaglia, medico di 46 anni di Ferrara, che si presenta come candidato del movimento 3V. Vaccini, vogliamo verità.